Allora, salve, vi saluto qui e vorrei presentarvi una domanda ai Skyward Community. Questa azienda ci prospetta vita lunga e salute e personalmente io con la tecnologia Skyway sperando in un futuro migliore. E per chi che ancora non mi conosce, sono Caterina Tattoshvili dalla Georgia con le qualifiche dell'investore leader e per oggi già speaker della società Skyward Community. Allora, sono bambini e di cui sono studenti e abbastanza affermati che è veramente una grandissima gioia per una mamma emigrata. Sono emigrata da tre anni e già appunto da quattro anni e svolgo tutte le attività a distanza dal mio posto di lavoro. E anche ho esperienza di lavorare anche in strutture statali, quindi ho 15 anni di esperienza nella comunicazione e nelle relazioni in ambito medico. Ho anche 18 anni di gestione di imprese private ed esperienza imprenditoriale nel settore delle vendite e dei servizi. E anche io sono una specialista certificato lingua italiana A2. Lo sviluppo personale ancora va avanti e per me sto facendo i corsi culturale e sociale su base all'università di Federico II. E sperando che divento una migliore persona migliore, quindi quella azienda a chi parleremo oggi, allora mi ha motivato per andare avanti. Allora, avendo esperienza di comunicazione, mi ha aiutato a creare un gruppo dirigente nella community Skyward che si è sviluppato nella Francia, Georgia, Polonia, Germania, Italia e Israele. Con l'aiuto del mio team in soli due anni sono stati investiti oltre 13.000 dollari e non solo 13, quindi a fine di oggi, a fine di ora, gli investimenti stanno continuando e stanno crescendo, i loro numeri anche. E tutto è successo grazie alla comunicazione online. E allora, allo stesso tempo, a questa fase del suo sviluppo, l'azienda ha offerto programmi di formazione certificati. Attualmente le specialità più richieste e altamente pagate e in cui il mio team attivamente è coinvolto. E allora, tu puoi immaginare che prima del 2014 le persone non stavano investendo le terapia di formula, e ha solo un'idea e il grande e disinteressato lavoro del creatore di questo progetto. E ora, ti presentiamo Skyward Community con le sue offerte e opportunità commerciali. E allora, il progetto di cui parleremo oggi è di proprietà del signor Anatoly Junetsky, con una storia di sviluppo di 40 anni. La proprietà intellettuale del suo progetto è stimato in 400 miliardi di dollari. Dopo 40 anni di sviluppo, che dal 2014 è diventata una grande azienda, un progetto che oggi ha le migliori offerte al mercato. Lo stesso signor Anatoly Junetsky ha già 73 anni ed è sicuro al 1000% che tutto questo si rialzerà nel costo. E lui non ha rifiutato di realizzare questo progetto anche quando la sua vita era in pericolo. E per chi che sono collegati prima volta, per adesso, ci hanno domanda ancora che cos'è Skyway e che cosa ci porta questo trasporto. Vi dico che Skyway è un trasporto che si muove su rotai ad alta resistenza. Il progetto presenta una serie di vantaggi che distinguono Skyway di altri modi di trasporto. La struttura della linea Skyway si trova su supporti che occupano un spazio sulla terra e non influenzano l'ecosistema. I bacini idrici e foreste rimarcono idrate. Il trasporto Skyway è controllato da un autopilota, ciò riduce il numero di potenziali incidenti. L'aerodinamica del trasporto Skyway consente di raggiungere la velocità fino a 500 km in un'ora e anche la costruzione della struttura della linea Skyway che richiede meno denaro rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto e altre strade. Tu potresti chiedermi anche, ma perché non siamo un altro ibrido, no? Però è possibile paragonare con la linea Skyway a quale è più comodo e quale è più utile e che può lavorare oggi quando servirà qualcosa più necessario. E allora questa struttura è sviluppata per oggi abbastanza e si deve solo integrare dappertutto. Allora, tu potresti chiedermi perché non usiamo un'auto ibrida, no? Ma io ti dico che quando carichi l'auto ibrida in pratica, devi collegarla a una centrale eretrica che può essere di nuovo acqua a carbone o in un'altra materia. Prima e quindi crea danni alla natura. Noi stiamo partecipando a questo progetto perché vogliamo salvare il centro del nostro pianeta e costi operativi sono 30-25 volte inferiori rispetto al trasporto su strada già esistente e la produzione di energia è al minimo perché genera energia più che sufficiente e dipende alla centrale. Anche c'è un stabilimento di produzione in un centro di innovazione, Sharjah e Minsk, dove lavorano 3.000 ingegneri istruttori, esperti che gestiscono ogni dettaglio del futuro d'asporto con la massima precisione e qui voglio dirvi che ogni dettaglio ha 100 anni di garanzia. A fine di oggi già era incredibile avere 100 anni di garanzia, però è un materiale che si usa per costruire questo trasporto, sono materiali della racchetta, che sono molto forti diciamo e vi spiegherò perché. Allora, quindi quando costruisci struttura Linea Sky, consumi 20-25 volte per meno finibie, perché non abbiamo bisogno di raddrizzare il paellaggio, per stare a acqua e rompere le rocce per costruire questa strada, sono necessari, sono soliti supporti con un binario di fune per viaggiare su Sky Transport e fornire servizi di consegna con trasporto più veloce. Allora, abbiamo, esistono tre tipi di pasta corte, ridici, semiridici e relattici, ognuno dai quali ha il proprio tipo di binario. E come sappiamo, quando una macchina, un'auto accelerata ad alta velocità, deve fare i conti con il flusso d'aria in arrivo. Ci siamo in resistenza con il flusso d'aria di annunzzi, si chiama resistenza aerodinamica. E il nostro Sky Transport è un lavoro facile da gestire e grazie allo scappo affilato è in grado di raggiungere velocità di 500 km. Allora, vediamo. Allora, il trasporto in qualsiasi condizioni climatici era realizzato e effettuato Per oggi abbiamo già i progetti in Belarussia, nella città di Marina Gorka, in Arabia Emirati Unity, nella città di Sharjah e questo trasporto ad alta velocità può raggiungere a 100 km in un'ora e può spostare con la sua capacità da 4 a fine di 24 persone e con la sua produttività fino a 500.000 passeggeri al giorno. Anche il trasporto urbano di unibus birotaia può raggiungere la velocità a 40 km in un'ora con la sua capacità può spostare fine di 168 persone e produttività al giorno e 50.000 passeggeri. È una bella cifra e sempre ogni trasporto urbano può spostare una maggiore con la sua probabilità fino a 50.000 passeggeri al giorno può raggiungere e abbiamo anche i merci merci che sono molto utili e che miglioreranno la nostra vita e tu accelererai il tempo della nostra vita anche abbastanza accelerata per oggi e con la sua bellezza anche può decolorare tutto il paesaggio tutto il panorama e si fa bene. Allora in pratica utilizzando questo trasporto possiamo portare le persone alle cure di emergenza rapidamente ottenere interventi chirurgici urgenti in tempo con un rapido trasferimento alla clinica necessaria con la massima velocità che non era possibile anche prima. E allora sappiamo che le strade sono gestionate da auto che con la loro emissione possono causare inquinamento e molto malattie. Poi ci sono anche paesi che dovranno mettere in atto leggi sulla sicurezza perché la mancanza di sicurezza è la causa di molti incidenti. Allora negli anni 70 esistevano questi problemi di inquinamento e sicurezza e nel 1978 signor Anatoio Uniecki scienziato inventore proteggista di navi volanti presentò il suo primo articolo dopo 5 anni di ricerca su atmosfera e dopo 5 anni l'atmosfera è stata molto inquinata e così per decenni avrebbe esposto la popolazione a sconosciute malattie e purtroppo adesso questa situazione esiste. La circolazione ha causato a decenni problemi strada soprappolata mancanza di sicurezza e rispendio di energia colossale per i propri obiettivi obiettivi allora l'umanità ha danneggiato la natura e i paesaggi ma per i propri interessi e proprio viettivi e abbiamo anche inquinato natura abbastanza stiamo battendo foreste prosciucando fumi e bacini elitrici distruggendo montagne sciogliere e quindi la natura risponde con disastri che non va per noi tanto bene allora questo è il motivo per cui Sky Transport il trasporto è necessario chiesto nella storia dell'esistenza umana c'è anche una possibilità di registrarsi e da vicino trovare anche tutte le nostre offerte e regole che esistono con l'accordo legislazione e allora allora per anche per due anni fa abbiamo avuto già questi tipi di trasporto già sono realizzati e certificati e tutto questo si realiterà dappertutto nei paesi già sviluppati in paesi già in via di sviluppo e i paesi già sotto sviluppi quindi è un trasporto che si integra molto veloce e molto economico costruire delle strade di Skyway rispetto con altre strade di trasporto già esistente allora ogni parte della società Skype community è in una posizione ereditizia qui è possibile firmare un successore e anche ricevere entrate aggiuntive dal programma di partnership di cui parlano allora di cui parleremo un incontro specializzato per lì e il vantaggio del fascino della nostra azienda sta nel fatto che una unione una forte unione di persone con obiettivi valori comuni e anche rappresentanti di oltre 200 paesi sono attivamente coinvolti in questo progetto per ottenere un reale benessere finanziario allora ora che è già diventato un processo irreversibile di cui parlano progetti già realizzati pianificati e filmati abbiamo le linee in città lineale dove è necessario avere un trasporto della linea schista e allora ora vi dico quello è il nostro profitto con noi in questa azienda allora il nostro profitto è tiratei dividenti guadani da programma partner l'ereditarietà disposizione sulla restituzione del denaro diventi comproprietario di tecnologie e partecipa a un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu passi alla storia come un fin altro poi crei capitali per una vita stensirata alla possibilità di viaggiare per raggiungere Dubai e non solo Dubai attestato di formazione in specialità impegnative altamente retribuite e quello che è importante tanto per te che il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni e personalmente per me è stata una grande gioia a rendermi conto di aver comprato 120 mila dollari per tastori mila dollari cos'è che non avrei potuto fare nella vita reale cosa dovrei far raggiungere questa cifra o in quanti anni potrei risparmiare così tanto è una cifra incredibile però per me che l'azienda skywalk community ha dato questa possibilità è diventata il senso il supporto della mia vita di sicuro mi ha regalato anche tante possibilità di andare avanti svilupparmi e cambiare la mia vita al 100% in 360 gradi diciamo la cosa più per te importante è che ci sia un prodotto reale che puoi visitare toccare e sentire la sua velocità e comodità per te stesso non ha bisogno di essere paragonato a nessun'altra azienda questo è l'unico progetto ecologico globale che ci offre molte opportunità interessanti e l'ecotecnopatica è stato realizzato ed è operativo in Pol della Russia nella città di Marina Borga e negli Emirati Arabi Uniti in particolare nella città di Sharjah nel centro di innovazione intorno all'università americana e allora allora all'università americana degli Emirati Arabi c'è una linea di prova del nostro trasporto che opera per 15 km intorno all'università questa distanza comprende 21 stazioni e ogni visitatore può sperimentare il comporto di questo trasporto e viaggiare con l'auto l'inniere del futuro e anche per me personalmente e per i molti partner è diventato ancora più credibile che l'Italia sia tra i due cento paesi partner e allora e ora ti dico da dove prendiamo i nostri benefici allora il 32% del valore delle tecnologie viene messo in vendita sotto forma di azioni e con gli investimenti pubblici si effettua l'acquisizione di azioni e noi diventare proprietari di tecnologie innovative la società Skyboard Community anche è stata registrata in Inglaterra in Isole Vergini come società europea nel 2014 e pertanto i diritti di Ingold Coopartner sono scritti e tutelati dalla normativa europea e allora l'ordine di partecipazione è inviato dal registro pubblico inglese all'indirizzo indicato dopo la registrazione della società le sue fasi di sviluppo sono state suddivise in 15 fasi ad oggi abbiamo già completato la quattordicesima fase del suo sviluppo e siamo prossimi alla quindicessima fase ecco qui e allora e già quest'anno la società Skyboard Community è stata introdotta con il nome cambiato che si dice così di Unesky Street Technology Allora i pacchetti azionari che ti interessano partono da 250 dollari fine e arrivano fino a 150.000 dollari a seconda dell'interesse degli atti un rappresentante di qualsiasi classe sociale può investire è possibile usufruire di rate interne a tasso zero sul pacchetto azionario e non perdere il tempo per ottenere maggiore informazione e informazioni e fornisci subito al tuo invitato il link di registrazione o fissa un incontro per tarte più specifiche nella direzione che ti interessa anche abbiamo sulla nostra pagina dopo completare verificazione è già disponibile tutte le offerte specializzate per i bimbi per i studenti per la nostra famiglia per creare per la vita spensierata guardando queste cifre che sono presentate sulla nostra pagina e dopo il completamento della quindicesima fase si sta già spostando sul mercato mondiale ci stiamo avvicinando alla maturazione dei detti e vorrei dirvi che questo trasporto in realtà esiste davvero e si adatta a tutte le condizioni climatiche e il suo corpo resistente alla radiazione converte l'energia solare e luce del giorno in elettricità è il tuo letteralmente servirci senza stosta e muoversi ad alta velocità e ciò che è più importante per te alla fine c'è ancora la possibilità di unirti a questo progetto ambientale più globale unico e senza precedenti e cambiare la tua vita in meglio Skyway è un trasporto unico che salverà la vita ai milioni di persone centinaia e anche migliaia di ettari di vaiaggi a miliardi di animali e uccelli e permetterà loro uno e anche abbiamo la possibilità allora è più comode allora vi dico l'azienda tiene conto dei nostri diritti secondo la legislazione europea e godiamo di tutti i diritti del comproprietario questo è un grande conforto per noi allora il trasporto è il produttore e creatore il signor Anatole Uneschi ha pres detto un lavoro svolto e anche vorrei dirvi che la nostra azienda ha una disposizione del denaro allora se decidi improvvisamente di lasciare azienda pre di raggiungere più aggiungere più 4% a determinate condizioni restituite restituite i tuoi soldi come mutuotario e allora questo allora tuttavia se qualcuno dovesse lasciare l'azienda con questa richiesta questo precedente non è stato finora rilevato allora guardiamo di nuovo anche i nostri profitti anche il trasporto allora il nostro trasporto di linea strida non ha tramite pannelli solari e anche il suo corpo può convertire l'energia solare in elettricità e lavorando praticamente senza sosta in termini di trasporto passeggeri può trasportare un numero molto maggiore in 24 ore e rispetto ad altri trasporti a altri trasporti esistenti scusate i termini di inquinamento siamo a zero e sostanti nocive non ci sono e quindi ne sottano per natura non esistenti praticamente i termini di incidenti è un po' sicuro perché evita fisicamente tutti i veicoli esistenti e ricordiamo che oggi abbiamo tre tipi di trasporto di veicoli che necessitano di consumo trasporto marittimo terrestre e aereo e tutti i tre tipi creano tanni all'aria quindi usano casolio e anche non possono lavorare senza sosta e sempre allora non sono assicurati dagli incidenti allora questo progetto ha soddisfatto le aspettative del signor anatore che ha già avuto l'idea di costruire città lineari dove serviva il trasporto sky e i nostri bisogni quotidiani e la natura saranno preservati allora questa è la nostra salute e per la salute e sopravvivenza come l'immagine avete visto già mostra chiaramente dove è stato realizzato il progetto questo progetto pilota quanto è pulita l'atmosfera e noi stiamo partecipando questo progetto perché è innovativo e ad alta velocità è sicuro è comodo è una bellezza proprio crea e viene la panorama è così bella allora della natura è facilmente integrabile e soprattutto ecologico e ancora vorrei dirvi i nostri profitti allora ti dico che il nostro il nostro profitto quando colleghi decidi entrare nella nostra società tu avrai in rete i dividenti guadagni da programma partner ereditarietà disposizione sulla restituzione del denaro diventi comproprietario delle tecnologie partecipa a un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu passi alla storia fino al troppo e crei capitali per una vita smissierata hai la possibilità di viaggiare dappertutto dove orai attestato di formazione in specialità impegnative e altamente retribuite per oggi e il valore nominale che è più importante per te del tuo acquisto direttamente proporzionale al numero delle tue azioni questo è con i dollari allora questo era la società Unitsky Street Technology con le sue offerte e opportunità e io sono stato attratto dalla qualifica di investore leader e speaker di questa società e vi saluto cari amici colleghi e ospiti grazie per l'attenzione io e Caterina da Napoli vi saluto